Assessore Trisolino, lei è favorevole o contrario alla registrazione dei consigli comunali? Sono favorevole al rispetto dei principi costituzionali che prevede la trasparenza di qualsiasi atto che venga prodotto da una pubblica amministrazione, quindi di conseguenza non trovo nulla in contrario che si facciano le riprese televisive, però certamente vanno regolamentate.